Madonna! Ragazzi oggi sono carico, vi dico subito che oggi spacco tutto, oggi devasto tutto, vi dico sono carico Quindi, vi credo massima concentrazione, oggi devo parlare proprio alla squadra, perché veramente devo parlare a questi bravissimi ragazzi che sono dei fenomeni Mi voglio fare sentire anche io, quindi, Gigiò! Dai copertura ampia lì dietro, lo so che tu sai dare benissimo la copertura dietro Mi fido di te proprio e tira qualche cazzotto se c'è qualcuno che si addormenta, tanto non ci sarà bisogno perché tanto gli altri sono molto molto bravi, molto! Davidino! Davide! Lo so che tu, quando entri in campo, li martelli proprio, li martelli! Imposti bene l'azione, lo so! Quindi, non posso crederti niente, fai il tuo sopporto lì dietro, tanto davanti magari, davanti sicuramente c'è quell'uomo con una zona di faccita cattivo che ci pensa a buttarla dentro, non ti preoccupare! Anzi, ogni tanto magari buttarla anche te, cerca di buttarla dentro perché mi piacciono i tuoi tiri, i tuoi tiri, mamma mia, con quella cattiveria, sono fantastici sono! Infatti ha messo il gol della Madonna, quello dell'Aventus! Teo! Madonna, zio Teo! Oh mio Dio, zio Teo! Che è un fenomenale! Ma dai una spinta di quelle proprio, devi darmi, devi armi la fascia! Io voglio che, che mi strappi tutti i fili d'erba, non ne voglio vedere uno di sua sinistra, capito? Mamma mia, raga! Che cazzo di carica! Madonna! Chi è? Allora! Simon, io ti voglio dire una cosa, fagli vedere a questi di Bergamo proprio chi sei te, chi è il tuo valore e chi hanno dato via! Visto che la scorsa ci hanno messo cinque, oggi io ne voglio fare sei! Oggi sono matto, sì, io sono matto, ne voglio sei gol oggi! Ho una carica assurda addosso perché rientrano tutti! Pierre, mi raccomando, marca meglio l'azione perché tu sai marcare bene, hai fatto già un gap enorme, perché nessuno si aspettava che te venissi appunto a Milano proprio dalla primavera, subito entrare nella prima squadra e fare bene anche il difensore centrale, quindi grande, e io lo so che tu puoi farmi una partita eccezionale, lo so questo, me lo sento che tu la puoi fare! Franco! Mamma mia Franco! A te cosa ti devo dire Franco? A te non ti posso dire niente, voglio soltanto vedere sette Franco in campo oggi! Oggi non voglio più vedere, oggi mi voglio vedere in venti, non voglio giocare in venti, oggi voglio giocare in venti cazzo! Quindi mi raccomando, il solito centrocampista della Madonna, box to box, che lo trovo in difesa, in attacco, in centrocampo, imposta l'azione, porta il caffè, ne fa un cappuccino, tutto voglio vedere a te, tutto! Sandro! Mamma mia Sandro! Allora, quelli che dicono che Sandro è scarso, adesso gli devi proprio prendere per orecchie, gli devi fare vedere chi sei, perchè tu già sei forte, sei fortissimo, quando tu recuperi il palone fai paura, fai paura a tutti i campi, si vede! Quindi mi raccomando, dai la carica, proprio imposta l'azione bene, e lo sai tu cosa fare meglio, lo sai che proprio se ti dico che tutti siamo con te, tutti sosteniamo Sandro, quindi dai il massimo proprio! A sinistra doveva giocare Raffaello, Raffaello io lo so che tu proprio quando li colpisci gli fai proprio male, lo so che quando tu tira una stecca proprio in retta gli fai male, quando la fai la fai giusta, quindi lo so che ultimamente non entri più con le cuffie, le cuffie forse le hai buttate via, non entri più con le cuffie in campo, quindi bravo, bravo davvero! Io voglio dal rapper Leo, tanto non è più rapper però io lo dico, voglio proprio vedere la tua maturazione in campo, voglio vedere come giochi, voglio vedere che tu veramente, tu sei il nostro futuro, tu sei il nostro futuro attaccante, io te lo dico, io di Leo sono contento ragazzi, eh, io sono contento di Leo, eh sì ragazzi, io sarei più contento, allora poi, vabbè, andiamo a Brahim Di Gazz, allora Brahim, sei un po' meno preciso sulla porta, cerca di fare attenzione quando tiri, però, però, però abbiamo bisogno di te, Brahim abbiamo bisogno di te proprio, abbiamo bisogno del tuo contributo, la squadra ha bisogno di te, tutti insieme hanno bisogno del tuo contributo perché sei un trequartista e devi impostare bene l'azione e lo sai fare, lo sai fare, quello bello, è quello che pretendo da te, perché tu sei forte, lo sai fare, quindi mi raccomando, dovrebbe giocare Castieco a destra, allora, Samu, Samu, io penso che l'ultima partita ti ho giocato bene, fai la sesta prestazione, mi raccomando, se non salti l'uomo, passa la palla proprio, passa la palla, non stare lì fermo, ad aspettare che si chiudano in difesa, cazzo, non aspettare, quello lì con il naso e faccia da cattivo, se ti dico qualcosa, vieni con me e prendi schiafi, però, ti posso dire, che mi sono piaciute le tue interviste, mi sono piaciute le tue interviste, le tue parole, adesso che arrivo a Mandzukic, anzi, gli mando un messaggio anche a Mandzukic, e gli dico, Marione, Marione, il Supremo, quando entri in campo, che lo so che oggi entrerai in campo, mi devi devastare proprio, tutti quelli gobacci, li devi fare vedere chi sei, ma non solo devi far vedere, mi piace proprio il tuo, le tue parole che hai lasciato in conferenza stampa, che hai detto, che io non voglio chiacchiere, io voglio i fatti, poche parole, è stato quello il messaggio, io l'ho capito benissimo, quindi quando tu entrai in campo, ti alzerai da quella panchina, voglio proprio, che so che, voglio proprio che ho il tuo gol, oggi voglio il tuo gol, io te lo dico, voglio il tuo gol, cazzo, mamma mia che cazzo, che cacchio di grinta che c'ho, poi me e te, me e te, allora me e te, tu lo so che, mamma mia, tu c'hai il fisico, da monstro, te lo dico già, sei un monstro proprio, quando entri in campo, sei una bella umana, io non so, se, i ragazzi di colore, di solito sono forti fisicamente, sì, sarà una cosa normale, mamma mia, quando entri in campo, devasta, mena, proprio, metti il tuo cazzo di fisico, e dai contributo alla squadra, adesso un messaggio per i ragazzi, oggi vi chiedo il 6 cazzo di gol, il 6 a 0, io ve lo chiedo, questi stronzi, che lo scorso ci ha fatto soffrire, io li dobbiamo far vedere chi siamo, dopo un anno, ma non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi, a portarci a casa i tre punti, e quello è importante, innanzitutto portare a casa i tre punti, ragazzi, poi lasciamo stare il derby, il derby ci penseremo, da domani mattina, anzi, da domani mattina, ci alziamo, e ci godiamo, ci godiamo il risultato, in funzione di come sarà, anzi, meglio ancora, domani mattina, ripensiamo il derby, e questo è fondamentale, è fondamentale tenere, la classifica com'è, è fondamentale, pensare una partita alla volta, non pensare, lasciamo stare il mercato, che il mercato è quasi finito, quindi non ne parlo la niente del mercato, quindi, oggi voglio la partita, voglio concentrare questa partita, non voglio sentire gente, che mi parla del mercato, del cazzo, oh, raga, oggi abbiamo una partita fondamentale, non avete capito, giochiamo in contemporanea, con quelle merdacce lì, facciammi vedere, chi siamo, quelle merdacce lì, eh, internati, come si chiamano, non mi ricordo mai, mamma mia, che grinta, che c'ho, io, ci credo, voglio portarmi, in tre punti, dai raga, ciao,